Mi sono sentita a casa più che investitrice, mi sono sentita come a casa della mia famiglia e questo è importantissimo perché non c'è solo il gioco ma c'è il piacere di stare insieme. Il calcio per te che cos'è? Un business. Un business. Spiegacelo perché è interessante. Abbiamo avuto Matteoni qui qualche settimana fa, in questa sedia sono venuti due lati del maschile e del femminile, del futuro e del presente della Ghezzo. Il calcio è perché se si prende solo il gioco del calcio si perdono solo soldi perché c'è solo da investire nei calciatori, negli impianti. Invece se le amministrazioni ci danno la possibilità possiamo costruire delle strutture dove possiamo mettere all'interno palestre, piscine, centri benessere, negozi, attività ludiche per i ragazzi e ristorazione. Quindi è un investimento, è un business. Quindi un po' c'è sintonia con Matteoni perché ricordo quel giorno applaudivi quando c'è stata la conferenza. Sì, sì, ma io con Matteoni parliamo la stessa lingua. La stessa lingua. Perché lui ha detto che il calcio è il 20%, il resto è tutto attività collaterali legate al marchio. Certo. Qui ci possono essere ipotesi di unione tra virgolette, diciamo, tra la parte maschile e quella femminile? I rapporti sono buoni. I rapporti sono molto buoni e è tutto aperto da parte nostra e anche da parte sua, quindi tutto è possibile. Dicevate prima di trovare una casa, una struttura e avete avviato dei colloqui con l'amministrazione o dipende dall'amministrazione in particolare? Ieri ho avuto un incontro con l'assessore Nisini e l'assessore allo sport. Domani pomeriggio abbiamo alle 16.30 l'incontro sempre con l'assessore. Noi abbiamo chiesto il campo di Villa Severi che attualmente non è in concessione a nessuno. E lì potrebbe diventare un clubhouse dove costruire, tra l'altro sarebbe anche una bella zona oltretutto. Una zona molto bella dove c'è da lavorare, dove c'è da investire e creare il business, oltre alla casa per le ragazze che attualmente sono subvise.